Questa è la protesta dei profughi di Cagliari, una nuova ondata colpito l'isola che torna nell'emergenza. In un solo giorno ne sono sbarcati quasi 700. Non vogliono rimanere in Italia e non hanno nessuna intenzione di farsi identificare. Sono 667 e nonostante il lavoro della prefettura e degli agenti, solo 9 persone sono state identificate. Tutti gli altri sfuggono ai controlli, sono per strada, senza documenti e molto arrabbiati. Alcuni sono scappati dai centri di accoglienza, dormono per strada e nelle piazze di Cagliari. 233 immigrati sono stati ospitati in questo albergo. Qui non stiamo bene, ci ripetono in continuazione. La cooperativa che gestisce la struttura però si difende. Sta di fatto che la situazione immigrati qui è di nuovo fuori controllo. Un'emergenza continua e la protesta dei profughi non si ferma. We need freedom! We need freedom! We need freedom!